Ma l'avete vista la notizia del cubo da una tonnellata di tungsteno che è stato venduto come NFT, non fungible token, oggetto digitale unico, per 250.000 dollari e ti dà diritto a cedere al tuo cubotto una volta all'anno. Arrivi lì, nel cavolo, guardi, gli dai tutte le tue carezzine al tuo cubo di tungsteno. Ecco, questo è il problema, a mio parere, delle notizie che riguardano il mondo degli NFT. Tecnologia super importante, super interessante, che però viene sempre raccontata o con le notizie admin, chiame cose, le cagate, le robe stratosferiche che dice ma le follie, l'arte digitale, questo è il racconto, oppure le truffe, ecco la televisione, le truffe, gli NFT. Non c'è mai un racconto sensato, di buon senso, che analizza e toglie ovviamente tutti gli scam, truffe, fuffe che ci sono, come c'erano in internet all'inizio e ci sono tuttora. E uno non è che può basare la sua valutazione della tecnologia sul fatto che poi quella tecnologia viene anche usata in modo distorto, no? Devi capire, per te, professionista, azienda, organizzatore di eventi, organizzatrice di eventi, cantante, un universo professionale, qual è l'impatto di questa tecnologia su di noi? Perché io non faccio l'artista, non so disegnare neanche una casetta, però vedo che questa roba qua è, wow, potenzialmente fighissima. E allora proviamo a entrare un po' più nel merito e capire, anzitutto, qual è la nostra strategia NFT, perché questo è un punto di partenza importante. Io a gennaio, esco, spero a gennaio, di uscire con il mio progetto NFT, sono seduto negli ultimi mesi, ho annegato il nasone raffreddato in tutto questo mondo, complesso, incasinato, difficile, che ti richiede uno sforzo per capire, ma non riesco a capire cosa è questa roba, e invece ti sforzi, resti lì e all'improvviso inizi a vedere una piccola luce, cominci a capirlo, 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 e poi capisci come internet all'inizio, uh, ma questo è un universo, è solo un cavallo di troia, una porta d'ingresso per un mondo cripto molto più ampio. Allora, qual è la nostra strategia NFT? Ogni azienda, ogni professionista, oggi dovrebbe sedersi e decidere il da farsi. Puoi anche decidere di non far niente, ma non puoi far finta che sto mondo non ti arrivi addosso come l'ondata digitale, ecco c'è quest'altra bella onda da sorfare o da essere travolti, decidi tu, valuta tu. Premessa numero uno, la persona secondo me più interessante da seguire su questo argomento NFT e professionisti è Gary Vaynerchuk. Gary V, io l'ho intervistato anni fa quando partiva con il suo VaynerMedia, molto in gamba, ha lasciato un progetto che si chiama VFriends, andatelo a vedere e valutate, io ho avuto grande ispirazione vedendo quel progetto lì su quello che voglio fare su di me a gennaio con tutte le mie iniziative e magari può essere utile anche per voi. Una seconda considerazione è che la percezione che io ho del mondo NFT, quando ho visto NFT, boom, così, ho avuto la stessa identica sensazione fisica corporea di quando ho visto PHP Nuke di Francisco Burzi, mi sembra si chiamasse, poveretto, pigliava sempre insulti, buon vecchio Francisco. Faceva sto software gratuito a fine anni 90 e inizio 2000 per creare il tuo sito internet, per creare il tuo portale. Parola magica in quel periodo era il portale. Fino a quel momento, se volevi creare il tuo sito, devi pagare un miliardo di lire alle web agency di turno e da quel momento in poi tu avevi una boccata d'aria fresca. Hai capito in quel momento che un tizio, in modo gratuito, poteva mettere su un proprio sito internet, fare l'editore o fare il portale aziendale. Avevi mille altri costi poi, però la tecnologia era gratuita. Quando ho visto quella roba lì, mi si è aperta l'idea dell'indipendenza. Wow, posso fare una roba per i fatti miei, vedi, è incredibile. Ho un software democratizzato e sugli NFT ho la stessa identica sensazione. Posso avere un rapporto diretto con la mia community, con i miei clienti, con i miei potenziali clienti, con un pubblico con cui mi interessa avere a che fare. E dopo aver risolto il tema della distribuzione con YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, c'era quel tema della monetizzazione che era difficile da risolvere, gli NFT, boom, sembrano il tassello mancante per risolvere una monetizzazione che però non è solo tua, ma potenzialmente anche della tua community. Super, super interessante. Allora, facciamo un po' di esempi. Primo esempio sono gli eventi. sentivo proprio Gary Vee all'NFT New York, l'evento che stanno facendo a New York, che faceva un po' di esempi sia sulla musica e sugli eventi. Sugli eventi mi ha colpito questo ragionamento. Se io vendo un biglietto per un evento fisico oggi, sì, posso, come dire, prendere quel cartaceo, quel biglietto digitale, magari ci faccio la foto, la metto su Instagram, bla bla bla. Però immaginiamo che invece quel biglietto sia un NFT. Vengo all'evento qua di SEO che c'è a Brighton e compro un NFT. Allora, il vantaggio numero uno che ho è un vantaggio di identità. Posso farti vedere un domani che sul mio LinkedIn di turno io ho anche il mio wallet, ho il wallet NFT, con dentro tutto quello che io ho raccolto, acquistato, collezionato. Allora, io posso farti vedere a quanti eventi sono stato, ad esempio. So in modo certo che sono stato a X eventi. Bene, tu dirai, chi se ne frega? È solo per fare il figo? Ma in realtà ha un secondo vantaggio, che è anche un vantaggio lavorativo. Se io cerco un esperto di SEO o un esperto di design, un esperto di quello che volete voi, posso verificare con maggiore sicurezza che lui è stato a tutta una serie di eventi o magari di corsi di approfondimento su un argomento. Può essere, come dire, una carta in più da giocare rispetto a uno che mi manda semplicemente un curriculum con il racconto fantasioso dei suoi ultimi dieci anni, che in genere sono sempre racconti di fantasia e curriculum. Invece di lì ho un elemento più certo. Allora, valore di identità, da dire, eccomi qua. Dall'altro lato posso avere un vantaggio lavorativo perché ti dimostro che ho fatto certe cose. Un terzo elemento è che magari quell'evento diventa storico. È un evento dove, boom, che ne so, è nato il nuovo Elon Musk e io c'ero, ho comprato il biglietto. E allora può avere anche una valenza sul secondario dove rivendo il biglietto, come oggi magari vendo il biglietto originale di Woodstock, cazzo ne so, del concerto di Vasco a San Siro, tal dei tali, quello ha un valore per i fan e posso rivenderlo. Per cui una cosa semplice così, come un biglietto, diventa anche un oggetto a collezione potenzialmente, non è detto. Questo per quello che riguarda gli eventi. E sugli eventi però ce n'è 3.000 di applicazioni. Io vi butto lì qualche riflessione, qualche considerazione. In un'altra, sulla musica, Gary Vee faceva notare un esempio carino. Immagina i Nirvana. Se tu all'inizio avessi potuto comprare l'NFT del primo album dei Nirvana. Arrivava Kurt Cobain e prometteva ai fan che, se compravano il loro primo album, potevano prendere un NFT e l'80% delle entrate le tenevano in Nirvana. E il 20% lo teneva il fan di, appunto, quell'album nel quale credeva e che al momento era sconosciuto. Sai, una scommessa così. Sì, vediamoci, ci credo, ci sostengo e in più ho anche, se la cosa funziona, una percentuale sull'entrata. E questa è una visione che, secondo Gary Vaynerchuk, dai prossimi 18-36 mesi diventerà qualche cosa che nell'industria musicale, così come anche in altre industrie, sarà qualcosa di presente. significa che tu salti interamente quella che è la normale filiera e vai più diretto sugli utenti. Su questo ho le mie perplessità, perché poi in realtà il valore, magari, dell'etichetta, sarà quello di farti tutto quel mestiere lì per te e tenere una percentuale, ad esempio. Così come il valore di un editore può essere quello di mettersi a disposizione degli artisti per gestirli anche quella parte lì, perché poi magari l'artista non vuole fare tutta questa roba qua, le cose, i smart contract, tutte le mennate che devi creare anche tecnicamente, l'infrastruttura, bla bla bla. Su questa vicenda poi del ci dividiamo le revenues, ovviamente ci sono mille altri problemi che non sono toccati da Gary V, però è chiaro che andranno smarcati. C'è un problema fiscale, c'è un problema legale che devi andare a configurare. Ad oggi, boh, starei molto attento, no, in questa suddivisione di revenue. Però, attendere una volta che quello è smarcato, pensate che figata è la possibilità, come fan, di credere per primo in un artista e di avere non solo la libidine di avere la sua musica o le sue sculture o i suoi contenuti, i suoi video, se ti piace magari uno youtuber o un tiktoker o chiunque sia, ma in più posso anche essere parte del successo economico di quel personaggio. Immaginate se io, quando ho visto per la prima volta, non so, Madame o Luis, che è ancora poco conosciuto, avessi potuto scommettere su di loro, acquistando un loro NFT o dei loro NFT, e a quel punto avere una percentuale delle revenues su alcuni prodotti o iniziativi o pezzi musicali o video che hanno fatto, in eterno. Mi trasformi da utente passivo della tua community a un utente attivo, faccio parte del tuo successo. Anche perché è assurdo oggi che uno fa un libro, ad esempio, e l'autore del libro è quello che guadagna, insieme all'editore o alla catena che c'è nell'editoria. La community, che è quella che ti ha sostenuto, che crede in te, che guarda magari tutti i tuoi contenuti, che parla di te, cioè è il vero protagonista di tutta questa vicenda, paga e basta, e guadagna a zero. Non ha senso. Gli NFT sono una porta d'ingresso su questo magico mondo, che a quel punto crea uno stimolo anche partecipativo diverso, perché se io ho delle azioni tue, no? Tue come persona, creatore, artista, beh, a quel punto sono anche molto interessato a far sì che tu abbia successo. Non sono solamente passivo a guardare il titolo, a dire... No, ho un interesse anche concreto. Magari la mia pensione sei tu. La scelta di comprare il tuo primo album musicale o di seguire i tuoi video diventa la mia pensione per il futuro. Interessante questo concetto. Altri ambiti di applicazione sui quali ho ragionato in questo periodo. Ho visto un esperimento che ha fatto Sean Puri, che fa un podcast di business, e hanno venduto cinque minuti di presenza pubblicitaria all'interno del podcast come NFT. L'hanno venduto, credo, bonus, per 30.000 dollari, una roba del genere. La cosa interessante è che in questo caso è ovvio che tu puoi vendere uno spazio pubblicitario all'interno di un video o di un audio con una normale transazione commerciale. Mi mando una mail, ci mettiamo d'accordo, firmiamo un contratto, tu mi mandi un bonifico e a questo punto stabiliamo che presenza hai. E questo è il classico mondo della pubblicità. Però un NFT è diverso. Se tu hai un podcast e fai un NFT dove vendi la possibilità di avere una presenza, numero uno, il valore si decide ad asta tendenzialmente. Dipende che livello di interesse c'è da parte delle persone che ti seguono o ti ascoltano. Magari c'è tanto interesse, tanti vogliono essere presenti, e il prezzo in quel caso sale. Per cui hai un vantaggio economico dal punto di vista tuo. Dal punto di vista però di chi acquista quel tipo di spazio, può anche essere che dica sai cosa, io credo che questo podcast diventa il prossimo Joe Rogan. Ho questo creatore di contenuti, wow, tra un anno al posto di avere 100.000 visualizzazioni che fa video in media, ne fa un milione. Allora il valore di quello spazio non è più uguale. Se io ho comprato 5 minuti oggi per 100.000 visualizzazioni di media, beh, se faccio 10 per, a quel punto tra un anno ha un valore molto maggiore. Quindi potrei decidere di fare quell'acquisto come investimento. E poi nel momento in cui lo voglio rivendere, vado su marketplace tipo OpenSea, dove ho altre persone interessate a comprare in automatico. Non devo chiamare l'agenzia, la concessionaria, le aziende, oh ma ti interessa. No, vado sul mercato, lo metto in vendita, se c'è interesse, a quel punto qualcuno lo compra. È interessante anche questa parte di ADV, come si svilupperà? È una cosa che vorrei testare, vorrei capire di più. Però apre anche qua molti sviluppi che potenzialmente possono essere interessanti. Qual è un problema che c'è legato agli NFT oggi? È che l'adozione in realtà è ancora piccolina. È una crypto community quella che si muove molto velocemente, ma il resto del pubblico, spesso, fateci caso, parlate con le persone che sono intorno a voi, non ha veramente le basi e poi non è così facile accedere. Se voi andate su OpenSea per comprare un NFT, all'inizio vi dici, ah, collega il tuo wallet. A, che cos'è un wallet? B, metamask, ma io non ce l'ho metamask. Ok, me lo creo, non è difficile. Poi lo devi creare e ti chiede le 12 parole chiave, scrivitele sul pezzo di carta, se no perdi tutto. Dici, no, aspetta, però c'ho l'angoscia, hai messo l'angoscia. Supero l'angoscia. Vai, sono pronto a comparare l'NFT di Monty col pelato più pelato del West. Eh sì, però hai bisogno degli Ethereum. Ma io non ce li ho Ethereum. C'ho Euro, c'ho Pound, c'ho Dollari. E come faccio a spostare i cosi per trasformare da Fiat? E via così. È ancora una lista di barriere d'ingresso, che verrà superata. Perché abbiamo i PayPal, che ormai sono sul mercato, c'è Square, arrivano tutti, c'è Facebook, arrivano tutti. È solo un fatto di tempo. Però ad oggi c'è ancora una barriera d'ingresso che va considerata. E devi pensare che è un discorso in prospettiva. Spesso vedo tutti questi progetti che sono in lingua inglese. Io ad esempio farò un progetto prevalentemente in lingua italiana, i numeri saranno molto piccolini. Però è molto stimolante ed è proprio quella sensazione fresca di internet degli albori, uguali, identica. Altre modalità di applicazione. Editori, ho visto il gruppo Poseidon, i due con cui abbiamo fatto speciale crypto e con cui faremo anche a novembre tutta una serie di interviste su questi temi qua. E hanno fatto una cosa molto interessante, un NFT magazine, dove lo vendono, hanno un drop mensile e tu lo puoi comprare. Quello ha un valore sia per leggerti il giornale e sia un valore da collezione, che ti tieni quella roba da collezione. Un valore economico totalmente diverso rispetto a vendere un magazine a 0,99, un euro e mezzo in edicola. Completamente diverso. È un altro mondo, un altro universo. L'editoria, i libri, gli audiolibri, come verranno stravolti da questo mondo? Enormemente. E sarà interessante vedere quali sono le applicazioni o magari avete delle applicazioni, segnalatemelo, che state facendo. E poi, in generale, per chiudere il discorso, siamo partiti da Gary V. V Friends è figo come progetto, perché non è soltanto mi compro l'opera d'arte. No, mi compro l'NFT che ha un'opera d'arte che valuto più o meno in base a come valuto l'arte di Gary Vaynerchuk. Ma mi dà un'utilità. Mi dà accesso a lui. Se compro un certo NFT, posso andare a giocare a ping pong contro di lui. Se compro un NFT, posso fare una call su Skype con lui di un'ora. Se compro un NFT, posso accedere al suo evento. Tutti quelli che comprano V. Friends hanno accesso al suo evento fisico. Se compro un NFT, ho una call di gruppo cinque volte all'anno. Fado a colazione con lui. Gioco a bullying con lui. Posso fare esperienze, posso accedere a lui, posso avere consulenze in base a quello che lui ha previsto. E allora un altro universo. NFT. Qual è la tua strategia sugli NFT?